Fa un buco! Yvonne e Lazarus hanno risparmiato per comprare casa, ma il loro sogno è diventato un incubo. La casa che abbiamo comprato ha dei difetti alle fondamenta. Abbiamo speso tutto per un seminterrato che non vede nessuno. Adesso la coppia vuole venderla. È orribile! Yvonne avrà il divieto di scegliere i pezzi per l'arredamento. Non mettere il dito nella piaga. Ci vuole un intervento drastico. Ecco perché non si mette un muro secco dove c'è una doccia. Per riuscire a cambiare casa, dovranno trasformare la loro. Bisognerà gestire le trattative di acquisto. Devo dire che questo posto inizia a piacermi. Costa 10.000 in più. Scherzi? E di vendita. Sei venuto da mia madre. Sembrate sorelle, anzi gemelle. Ti stai dando da fare. Forza! Per te ce la faccio? Uh! Yvonne e Lazarus hanno tre figli. Due maschi, Jalen e Jordan. Bravo! E una femmina, Giada. Sì, Giada! Sì! La giovane coppia vuole far crescere i tre bambini in una casa di proprietà. Quanti pancake volete? Io due, grazie. Volevamo comprare casa prima di compiere 30 anni e ce l'abbiamo fatta a 28. Purtroppo, però, abbiamo fatto le cose troppo in fretta. Stavamo facendo un sopralluogo in cantina. Yvonne ha chiesto all'ispettore perché c'era l'acqua sul pavimento. Lui le ha risposto che tutte le cantine sono umide. Noi ci siamo fidati, ma abbiamo sbagliato. Il problema dell'acqua in cantina ci ha messi in difficoltà. Abbiamo speso i soldi destinati al restauro della casa per riparare la cantina. 30.000 dollari per uno spazio dove non va nessuno. Vi mostro i vari difetti della cucina. Il ripiano di laminato si macchia come niente. Il segno di quella pentola non va più via. Ormai sono passati due anni. È una cucina bruttissima. Anche il lavandino non va più bene. Qui ci sono delle macchie. È troppo vecchio. La nostra non è più una casa moderna. Ormai ha bisogno di essere aggiornata. Sì. Per non parlare del bagno. Quando rientro in casa dopo una lunga giornata di lavoro, vorrei rilassarmi. Questo bagno dovrebbe essere una specie di spa, invece fa schifo. Ah! Sì. Cosa ne faccio? Dove state andando? Il giardino non è adatto. Tornate qui! Avete sentito la mamma? Laggiù c'è un ruscello e non è ricintato. Possono esserci serpenti o altri animali. Non vogliamo che i nostri figli vengano a giocare qui. Come i coyote. Ne abbiamo visto uno. Tu? Io ne ho visti due. Dobbiamo riuscire a ricavare il massimo da questa casa per poterne comprare una più grande. Abbiamo 275.000 dollari. Non un soldo in più. Perché? Forse possiamo investire ancora qualcosa. Non un centesimo in più. Se troviamo la casa giusta... Non si può. Ok. 2,75. Ok. Ok. Drew si è preso un impegno non da poco. Mia moglie sa ciò che vuole. Nessuno riesce a imporle qualcosa che a lei non piace. No. Sta attento, Drew. Io non scherzo. Ehi, c'è una festa! Jalen, Jordan, Giada. Ciao. Lui e Jonathan. Secondo me avreste bisogno di una stanza dove farli giocare. Sì. Separata. Adesso andate di sopra a giocare in camera vostra mentre noi diamo un'occhiata alla casa. Forza! Su, su! Perché questo spazio non va bene? Perché io lo uso come ufficio. Quanto lavoro riesci a produrre in questo ufficio? Se ci sono loro, nulla. Cioè, sempre. Infatti. Dove sono le vostre cose? La stanza non è arredata. Non è vero. Quella è la scrivania di Lazarus con la sua sedia rosa. E non ci sarà molto da fare. Questa stanza vi farà risparmiare. Basterà arredarla. Nella nuova casa ci vorrà una stanza più grande. I bambini crescono e lo spazio diminuisce. Troveremo una casa con una stanza dei giochi per i bambini. Sarà il loro regno. Non vi lasceranno nemmeno entrare. Sì, io ci sto. Che bello! Una caratteristica che piacerà agli acquirenti è questa apertura che porta direttamente in cucina. Una vecchietta vi ha regalato quella lampada e voi non avete saputo dire di no. Che cos'ha che non va? Secondo me ci vorrebbe qualcosa di più contemporaneo. Yvonne avrà gli vieto di scegliere i pezzi per l'arredamento. Ho capito. Ci pensa il marito. Per quanto riguarda la cucina, il ripiano è un po' datato, ma il locale è spazioso. Cosa non ti piace di questa cucina? Per prima cosa cambierei il laminato. È pieno di macchie. Le hanno fatte i bambini con i colori. Ok, è un laminato di qualità scadente. Gli armadi sono in buone condizioni. Basterà riverniciarli. Qui si potrà pareggiare la superficie in modo da realizzare un piano unico senza interruzioni. Così lo spazio sembrerà molto più grande. Sarebbe bello. Non credo che vorrete questa roba nella vostra nuova casa. Assolutamente. Io nella casa nuova voglio una moderna cucina open space. Dobbiamo restaurare questa per riuscire a venderla a buon prezzo. Poi potrete comprare la casa dei vostri sogni. Io ho già traslocato, si vede? Hai già le valigie pronte. Esatto. La prima cosa da eliminare è quell'orrenda mochette in sala da pranzo. Sono d'accordo. Certo, è orribile. Non aggiunge alcun valore alla casa. Sì, hai ragione. Le pareti scure e la mochette blu tolgono luminosità al locale. Anche quel tavolo antico non va bene. È un oggetto di antiquariato. Davvero? Quella vernice marrone è bruttissima. L'ho fatto con mia mamma. Sì? Sì, prima era più chiaro. È opera sua. Voglio dire che lo stile del lavoro mi piace, ma non il colore che avete scelto. E non mettere il dito nella piega. Ribadisco che Yvonne avrà il divieto di scegliere i pezzi di arredamento. Non serve ciò che piace a te. Ma ciò che vogliono i clienti. Ho capito che io e te abbiamo gusti diversi. L'importante è saperlo. Non è una grande notizia. Non litigate. Andiamo di sopra a vedere la stanza padronale. Ecco. Non è brutta. Secondo me, però, anche qui avreste dovuto arredare lo spazio con un po' più di attenzione. Dà l'impressione di essere una stanza incompiuta. È vero. Questa è la stanza più importante di tutte. Bisogna darle una rinfrescata. Qui non c'è molto da fare. Concentreremo gli sforzi in soggiorno e in cucina. Prima di andare devo farvi vedere il nostro bagno padronale. Benvenuti nell'oasi del benessere andata a male. È orribile. È sempre stato così. Devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. C'è tanto spazio. È una cosa positiva. Ci sono due grandi armadi. Uno per lui e uno per lei. Poi la doccia e questa grossa vasca. È vero? Sì. Gli armadi si possono tenere. Basterà riverniciarli. Teniamo la moquette. Scherzi? Sì. Non preoccuparti. Cosa vorreste nella vostra nuova casa? Io vorrei un bagno sontuoso come una spa. Lo desidero tanto. Te lo troverò. Prima di parlare di cifre, però, voglio andare fuori a vedere il giardino. Ok. Eh? Non mi avevi detto che qui bisogna rifare tutto. Dovranno spendere tutti i loro soldi. Volevo vedere la tua faccia entrando in questo bagno. Il tuo giardino dell'Eden prosciugherà tutti i fondi. Il giardino mi piace. C'è tanto spazio dove i bambini possono giocare. È pericoloso. Infatti. Non possiamo lasciar giocare i bambini là fuori. Ci sono coyote e serpenti. Vogliamo un giardino livellato e recintato. dove i bambini possano giocare liberamente senza il pericolo di essere attaccati da animali selvatici. Questo giardino piacerà a molti potenziali acquirenti. Certo. Sì. Rientriamo a parlare di soldi. Per voi, a che cifra si può vendere questa casa nelle condizioni in cui si trova? Secondo me, si può arrivare a 240.000 dollari. Sì. Così com'è? Esatto. Certo. Quello che sto per dirvi non vi piacerà. Se vendeste questa casa oggi senza farci nulla, non ne incassereste più di 210.000. Scherzi? Non è possibile. È troppo poco. Non sto scherzando. Davvero? La cifra che ha ipotizzato è assurda. Non è possibile. 210.000 è un prezzo inaccettabile. È troppo basso. Se la vendiamo a quella cifra, non ci basteranno i soldi per comprare una casa più grande. Per cambiare casa dovreste riuscire a venderla a 240. Sì, certo. Per forza. Se un acquirente interessato la vedesse ora, vi offrirebbe poco, perché noterebbe subito quei brutti ripiani e l'orribile bagno padronale. Queste caratteristiche negative fanno diminuire notevolmente il valore della casa. Ecco perché vi consigliamo di affidarci la ristrutturazione dei locali. Inizierò dal bagno. Qui toglierò tutto. Coprirò la carta da parati floreale con muri a secco e rivernicerò la stanza. Installerò una doccia con cabina di vetro e una nuova vasca con i bordi di porcellana. Metterò le piastrelle del pavimento, nuovi ripiani, lavandini e rubinetti e aggiungerò oggetti di arredamento moderni. In sala da pranzo rifarò tutto. Sostituirò la vecchia moquette con un parquet in legno duro e vernicerò le pareti di una tinta neutrale. Rifarò il tavolo da pranzo e cambierò le tappezzerie aggiungendo tende e accessori per completare l'opera. In cucina torneremo alle origini. Farò gli armadi in alto e quelli in basso di tinte contrastanti e installerò nuovi ripiani in granito e un paraschizzi moderno. Sostituirò la cappa della cucina e la lavastoviglie e aggiungerò nuove lampade e un tavolo per la prima colazione. Ad ogni aggiunta che proponi sento il rumore del registratore di cassa. Quanto ci costerà? La ristrutturazione vi costerà 13.000 dollari. Per completare i lavori ci vorranno almeno due settimane. Cosa? È assurdo! Abbiamo già speso 30.000 dollari per riparare i danni dell'acqua in cantina perché altrimenti la casa non si può vendere. Con il danno strutturale? Certo. Devo dire che l'idea di dover sborsare altri 13.000 dollari per questa casa non mi piace assolutamente. L'intervento era necessario per motivi di sicurezza. Se non lo aveste fatto, oggi la casa varrebbe ancora meno. Avete avuto una brutta esperienza, ma questo non significa che le cose debbano andare sempre così. Vi proporrò anche case nuove e dotate di garanzia. Ogni eventuale difetto è coperto da garanzia assicurativa. Se non mi fido di una persona, non chiedo la sua collaborazione. È un complimento. È la prima volta che succede. La soluzione c'è. Se vi fidate di noi, voglio sentirvi dire che ci state. Cosa dici? Vuoi... Ci sto. Ok, facciamolo. Non c'è scelta. Faremo il possibile per meritarci la vostra fiducia. Considereremo tutte le vostre esigenze per trovare quella che più si addice al vostro gusto. Questa sera dovrete preparare la casa per Jonathan. Il restauro inizia domani. Domani? Dovete sgomberare il campo. Ci vediamo domani. Non puoi sbagliare. Yvonne non sopporterebbe altre delusioni. Gli agenti immobiliari non sono tutti uguali. Troverò una casa perfetta. Ti fidi? Io mi fido di me, tranquillo. Smettila. Sei pronta? Sì. Mi aiuti tu? D'accordo. Perfetto. Jonathan inizierà il restauro domattina. Non c'è molto tempo per sgombrare i locali della casa. Dammi il cinque. Mi aspettavo un po' di caos, ma non fino a questo punto. Ok, forza. Attenzione, mettete tutto qui dentro. Non c'è tempo. La mia bambola. Mettila dentro. Ecco fatto. Bene, abbiamo finito. Andiamo. Devo demolire completamente il bagno. Bisognerà rifarlo da capo. In un certo senso, è un intervento di giardinaggio. Dovrò eliminare tutti i fiori. Finalmente possiamo dire addio alla mia oasi fiorita. Ho riflettuto a lungo sul sistema più economico per eliminare quella carta da parati. Secondo me la soluzione più rapida è ricoprirla tutta. È più facile. È come una pelle. Hai ragione. Prima però bisognerà togliere la moquette. Sì. Sì. La taglio in mezzo. Iniziate da quell'angolo. Ok, vediamo. Uh! Guarda! Brava! Via! La moquette in bagno non va bene. Fa schifo. No. Wow! Si può notare il danno alla base del lavandino. Qualcuno ha rovesciato dell'acqua sul pavimento. L'acqua è penetrata sotto lo strato di moquette. È come una spugna. Già. Probabilmente ci sarà della muffa. Dovremmo intervenire. Ancora questa storia della muffa. Oh, no. Prima in cantina e adesso in bagno. Lo so. Mi dispiace, ma è così. Speriamo soltanto di non trovarne molta. Ok, Lazarus. Ho bisogno di te per trasportare fuori la vasca. Tu puoi iniziare a smontare la struttura intorno alla doccia. Ok. Vuoi dare tu il primo colpo? Con molto piacere. Fa un buco! Sì! Perché così piano? Lasciami provare. Sì! Tu continua a smontare l'ottone. Certo. Adesso abbiamo una doccia open space. Certo. Colpisci forte come prima. Uno, due, tre. Ecco. Ok. Mi sembra a posto. Questo non va bene. No? No, non ci siamo. No. Uno, due, tre. Mi sembra a posto. Questo non va bene. Oh! È tutta muffa. Ecco perché non si mette un muro a secco dove c'è una doccia. Lo so anch'io. È arrivato il momento di mettersi le maschere. Ok. Togliamo il resto e vediamo in che stato è. I capelli sono a posto, vero? Tiralo e poi lascialo andare. No. Sì. Non provarci. Sembra bagnato. No, è. Guarda quanta umidità. Uh! È concentrata soprattutto intorno alla base. È normale. L'acqua cola in fondo e poi si ferma lì. Già. Ci sono troppi galli in questo pollaio. Nel senso che qui basto io. Sì. Voi potete andare all'appuntamento con Drew. Qui ci penso io. Ok. Per quanto riguarda il problema della muffa, quanto ci costerà di più? Per ora non costa niente, perché avevamo già deciso di rifare tutto in cemento. Non preoccupatevi. Non supereremo il limite di spesa. Ok. Vi do un compito. Bene. Venite. Vi mostro cosa dovete fare. Grazie. Siamo a posto. Niente muffa, niente soldi. Perfetto. Sono sicuro che voi due non vedete l'ora di dedicarvi allo svolgimento dei compiti che ho deciso di affidarvi. Certo. Iniziamo da Yvonne. Se vuoi, puoi farti aiutare da tua madre. Dovrai rifoderare queste sedie, carteggiare il tavolo e riverniciarlo. Bisognerà scegliere un colore più elegante e più moderno. Mi farò aiutare da Lazarus. Lui non può, dovrà fare altro. Cosa? Dovrai pitturare le pareti della sala da pranzo. È importante. Jonathan, ascolta. Ti faccio una proposta. Io gioco a pallacanestro per divertirmi. Anch'io ho la stessa passione. Lo so. Ti sfido. Se vinco, sarei tu a pitturare le pareti. In caso contrario, lo farò io. Ok, accetto la sfida. Vinca il migliore. Non si può inserire il tavolo? No, tu devi fare il tavolo comunque. Carteggialo stasera. La pallacanestro riguarda solo i muri. D'accordo. Mentre Jonathan studia come battere Lazarus a pallacanestro, io accompagno la coppia a visionare le prime case. Yvonne è diffidente nei confronti degli agenti immobiliari. Io le dimostrerò che non siamo tutti impostori. Questa è una casa nuova in garanzia. Spero che sia l'inizio di una grande amicizia. Bella. È molto carina. È nuova. Voi sareste i primi ad abitarci. Per ora ci siamo. Venite. Wow. L'ingresso è stupendo. C'è tanto spazio e i soffitti sono molto alti. 250 metri quadri. Da questa parte c'è il tuo ufficio. Finalmente avrò un posto dove poter lavorare senza avere i bambini intorno. È perfetto. Questa è la sala da pranzo. Nella nostra si sta in sei. Qui c'è posto solo per quattro. Di solito le case vecchie sono leggermente più grandi rispetto a quelle che sono state appena costruite. Ok. La vostra sala da pranzo è più grande, ma le case nuove hanno questi. Guardate che soffitti. Quanta luce. Le finestre separate stanno molto bene. Mi piace perché si vede anche di sopra. È una bella caratteristica architettonica. Il caminetto è stupendo. La pietra mi piace molto e fa risaltare il focolare. Soggiorno e cucina formano uno spazio unico. Guardate. Oh, che meraviglia. C'è un'isola molto spaziosa. È granito? Sì. Questa cucina è molto più spaziosa di quella a cui siete abituati. Mi piace il colore degli armadi. Questi sono molto più alti dei nostri. Lo spazio da qui in su è riservato a Lazarus. Da qui in giù è per te e per i bambini. Ah, ah, ah. I due lavandini sottopiano sono carini. Siamo d'accordo che è una gran bella cucina. Davvero. Complimenti. Ti stai comportando bene, Drew. Complimenti, bravo. Vediamo le stanze da letto. Certo. Le stanze da letto sono cinque. Il bagno è da quella parte. Qui invece c'è la camera da letto padronale. Oh, questa è una stanza da letto come si deve. È bellissima. Che moquette. La stanza è molto lunga. Qui c'è un angolino per la lettura. E che finestre. Entra molta luce naturale. Quando vedrai il bagno padronale, sarai ancora più contenta. Ah. È proprio carino. Ehi, davvero. Ripiano con doppio lavandino. Qua sotto potete mettere tante cose. Laggiù ci sono la doccia e la vasca. Lì posso distendere le gambe. Prova. Sì. È vero. È grande. Devo dire che questo posto inizia a piacermi. Qui potremmo stare bene. Bravo, Drew. Dammi il cinque. Anche il giardino di questa proprietà è molto bello. Andiamo a vederlo prima di parlare di soldi. Sì. Ok. Ehi, è molto grande. Certo. Sono 2000 metri quadri. Però non è recintato. Il costruttore ha detto che dopo la firma del contratto metteranno una recinzione. Soddisfa tutte le nostre esigenze. Complimenti, Drew. Sì. Ma quanto costa? Avete a disposizione 275.000 dollari. Già. È una casa appena costruita e coperta da garanzia. Ne costa 290.000. Uh. È troppo per le nostre tasche. 15.000 in più. Non è tantissimo. È un sacrificio che si può fare. Abbiamo fissato un limite. Il prezzo non è trattabile. Se volete una casa coperta da garanzia assicurativa, dovete rinunciare a qualche richiesta. È la cosa più importante. Posso farvi vedere altre case, ma non sono nuove come questa. Possiamo anche vedere altre case, ma questa rimane la mia preferita. D'accordo. Adesso tornate da Jonathan a fare ciò che vi ha detto. D'accordo? Ok. Sì. Ok. Il giro di casa è finito. La demolizione del bagno, invece, prosegue a pieno ritmo. Il budget è limitato. Quindi, togliendo i ripiani dei lavandini, bisogna fare attenzione a non danneggiare gli armadi. Voglio solo ridipingerli e aggiungere nuovi accessori. Nella doccia si crea molta umidità. Quindi ci vuole una soletta di cemento o una membrana. Qui c'è il rischio che le pareti si bagnino per gli spruzzi d'acqua della vasca. Ma probabilmente non serve una soletta di cemento. Basterà un muro a secco resistente all'umidità. Così, se si bagna, non c'è il problema della muffa. Non è facile farlo da soli. Dopo una giornata piena di sorprese e di decisioni difficili, Yvonne e Lazarus non possono ancora rilassarsi. La casa che abbiamo visto ti piace? La casa è nuova ed è coperta da garanzia. Ma quando Drew ci ha detto il prezzo, mi sono cadute le braccia. Sì, ma quella casa ha tutto ciò che desideriamo. Drew ha fatto centro. Costa troppo. Metto io i 15.000 che mancano. Hai tralasciato un punto. Pensa per te. Ok. Siamo d'accordo? Sì. Se vinco, tu pittori la sala da pranzo. Se perdo, tocca a me. Non sapevo che fosse una sfida uno contro uno. Io ho portato la mia arma segreta. Da venite? Sì! Sì! Mi aspettavo una mossa del genere, quindi anch'io ho un'arma segreta. Mi hanno detto che qui c'è una partita. Siete pronti a perdere? Aiuto. Giochiamo. Forza. Bravo. Canestro. Per tirare alto. Non a casa mia. Non a casa mia. Eccolo. Attento. Bella. Sì. Aiuto. Bella. Canestro. Perfetto. Dalla lunga. Un altro. Stop. Time out. Ok. Stanno vincendo. Sono forti per noi. Uno, due, tre. Dai! Ci siamo. Fate attenzione in difesa. Ok. Pronti? Bel tiro. No! Sì! Sono rimbalzo! Sì! Abbiamo vinto! Complimenti, ragazzi, ma avete perso. Pitturerai tu. Devo onorare la scommessa. Bene, così avrò meno da fare. Il mestiere di imbianchino tocca a te. Buon lavoro. L'importante è vendere la casa. Certo. Tu puoi tornare dentro a lavorare. Prima di verniciare la sala da pranzo, facciamo un altro giro di casa. Andiamo. Ciao, ragazzi. A dopo. Grazie alla nostra vittoria, Jonathan avrà meno da fare. Ma il lavoro di restauro è ancora lungo. La cucina è delle dimensioni giuste, ma andrebbe restaurata completamente. Ma i fondi non bastano. Nonostante i pochi soldi, però, questa cucina può tornare come nuova. Mi sarebbe piaciuto giocare un'altra partita, ma ora devo aiutare Lazarus e Yvonne a cercare casa. A Yvonne è piaciuta molto la prima casa, ma Lazarus dice che costa troppo. Questa è più abbordabile, ma la coppia dovrà rinunciare a qualche richiesta. Dopo una grande vittoria a pallacanestro, bisogna sempre fare un po' di stretching. Ho avuto pietà di te perché tu sei quello che deve vendere la nostra casa. Lasciamo perdere la partita, parliamo di case. Questa è molto bella, vi va di vederla. Certo. Certo. Andiamo. Che bell'ingresso. È originale. Con questa disposizione, la sala da pranzo è nell'ingresso, ma questa casa è molto versatile. Qui si può fare un ufficio o un salottino. Sì. Io ci lascerei la sala da pranzo. Il mio ufficio dovrà essere isolato, per me è molto importante. La cantina è spaziosa. Bene. Ok. Il lavoro però non è stato finito, dovreste farlo voi. Se non è finita significa che dovremo spendere altri soldi. Infatti. Il vantaggio però è che si vede che le fondamenta non hanno problemi. Sì. Questa casa è coperta da otto anni di garanzia. Perfetto. Di là c'è la cucina. Andiamo a vedere. Ah, mi sembra un po' piccola. So che ti piacerebbe avere una cucina molto grande, ma questa costa meno. Gli elettrodomestici sono tutti nuovi. Mi piace la disposizione del locale. È una cucina come si deve. Qui staremo bene. Ammetto che questa cucina gas piace molto anche a me. È bellissima. È la soluzione perfetta per noi. Così come ripiani in granito. Il parquet in legno duro prefinito arriva fino in soggiorno. È un bel colore. Qui si può fare la stanza dei giochi, o il tuo ufficio, o anche un salottino. Io vorrei qualcosa di più grande. A noi piace dare feste. A volte abbiamo decine di ospiti. Secondo me qui non ci starebbero tutti. Lo spazio è insufficiente. Pensaci, tesoro. Più lo spazio è grande, più c'è da pulire. Lo spazio non manca. Andiamo di sopra a vedere le stanze da letto e i bani. Ok, qui ci sono tre stanze per i bambini. Non c'è una stanza per gli ospiti? Come ho detto prima, se si vuole spendere meno, bisogna rinunciare a qualcosa. Già. La stanza padronale. Wow! È bellissima. Mi piace. Il soffitto ribassato fa sembrare lo spazio più grande. È carino. Con i nostri mobili avremo a disposizione molto più spazio. Sì, i nostri non sono così ingombranti. Lì c'è il bagno padronale. Ah! Vediamo. Che spettacolo! La vasca è molto capiente. Avete la doccia con cabina in vetro, due lavandini e un ripiano molto spazioso. Ne abbiamo bisogno. Vi piace? Molto. Un'altra cosa positiva è che qui non c'è la mocchietto verde. Meno male. Andiamo a vedere il giardino. Eccolo. Perché la gente non recinta mai il giardino? È un'operazione semplice. Possiamo farlo noi. Non è enorme, ma qui i bambini potranno giocare. Può darsi, ma è molto piccolo. A me va bene, perché sono io che taglio l'erba. Pensavo che volessi una casa più grande della nostra. Facciamo i conti. Questa casa costa i soldi che avete, 275 mila dollari. Secondo me dobbiamo comprare questa casa. Ma il giardino è troppo piccolo e la cantina non è ancora finita. Secondo me si può ottenere uno sconto per coprire almeno le spese della recinzione. Poi dovrete risparmiare per finire i lavori in cantina. Io voglio questa perché possiamo permettercela. Ok. Io preferisco l'altra. Se davvero volete una proprietà più grande, posso trovarvela, ma sarà più vecchia di questa. Ne ho una da farvi vedere. Forse vi piacerà. Ok. Ora però non c'è più tempo per visionare case. Devi verniciare la sala da pranzo. Hai perso la scommessa. I miei figli hanno giocato meglio di voi. Ne discuterei volentieri, ma ora devi andare a verniciare le pareti. Dovrai lavorare fino a tardi. Dopo una sconfitta umiliante, Lazarus ha dovuto onorare la scommessa. Come sta il mio imbianchino? Io sto benissimo. Lo stai stendendo bene? Certo. Bravo. Non ho voglia di sentire altre critiche da parte di Jonathan e Drew. No. Hai già perso a pallacanestro. Sei mia moglie o un nemico? Oh, non arrabbiarti. Dico solo che sta venendo molto bene. Già, io sono imbianchino molto sexy. Certo. Io e Yvonne abbiamo pareri diversi sulla qualità della verniciatura del tavolo. Ma forse ho trovato il sistema per farle cambiare idea. Cosa succede? Stiamo parlando. Sei venuto da mia madre. Per farsi benvolere, in fondo, basta sorridere. Infatti. Signora, come le sembra la mia idea per la verniciatura del tavolo? Credo che contribuirà a migliorare la sala da pranzo. Mi piace. Abbiamo comprato insieme la vernice. Eravamo d'accordo sul colore. Il ricordo del tempo passato insieme a verniciarlo è molto più apprezzabile del colore che avete scelto. Ho capito dove vuoi arrivare. Vi faccio vedere come verrà. Userete questa bellissima tinta nerofumo. Guardate. Alla fine verrà così. E per creare contrasto, le sedie saranno bianche. Così. Mi fido di te. Le passerà, vedrai. Sono sicuro che ti piacerà. Allora, quando rifodereremo le sedie, le faremo così. Signora, stavo pensando che lei potrebbe dare una mano a sua figlia a rifoderare le sedie. Con molto piacere. Sapete come si fa per verniciarlo? Credo. Non si dovranno vedere le pennellate. Dovrà sembrare che la superficie sia stata verniciata a spruzzo. Per la parte sopra, usate il rullo per un effetto più uniforme. Per i dettagli, dovrete usare il pennello. Ok. Guardandovi una accanto all'altra, sembrate sorelle. Anzi, gemelle. Ti stai dando da fare. Vado a controllare Lazarus. Arrivederci. È stato un piacere. Buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Hai fatto un ottimo lavoro. Hai dato bene la mano di fondo. Adesso, però, devi stendere la vernice. Ok. Questo è il colore che ho scelto. È una tinta molto fresca e luminosa. C'è anche un tocco di verde. Ok. Mi aspetto che tu riesca a finire entro stasera. Va bene. Sorridi. Mentre Jonathan lavora, io accompagno la coppia a vedere altre case. Non è facile trovare la casa giusta per Yvonne e Lazarus. Lei ne vuole una coperta da garanzia, mentre lui non vuole spendere troppo. Questo immobile non è nuovo e il prezzo è buono. Se riesco a convincere Yvonne, forse siamo a posto. Il quartiere è molto bello. Complimenti. Questa casa è del 2000, quindi è un po' più vecchia, ma è tenuta bene. Per scoprire se è vero, dobbiamo vederla dentro. Entriamo. Sì. Ok. Vediamo. Avevi detto che è vecchia? Questa casa ha 14 anni, ma non li dimostra. È in gran forma. È stata fatta anche qualche piccola modifica. Il pavimento è tutto in parquet. È molto bello. È proprio come piace a me. Questo è il salotto. Qui avete a disposizione altro spazio. Guardate le dimensioni del divano e del piano. Questa stanza è grande, ma in confronto a quella sembra piccola. Hai ragione. È vero. La sala da pranzo. E qui dietro c'è la cucina. Che bella. È molto moderna. Il frigo con congelatore in basso e la lavastoviglie sono nuovi. Oh, lavandino sottopiano. Che bello. La cucina è stata rimodernata solo cinque anni fa. Elettrodomestici e armadi sono nuovi e sono tutti coperti da una garanzia di dieci anni. Siate a posto. La garanzia in questi casi è sempre un vantaggio. Questo tavolo invece è perfetto per la prima colazione. Sì. Sì. Questo open space porta in soggiorno. Mi piace molto. Sì. Questo è il secondo soggiorno della casa. Potete usarlo per i bambini o potete tenerlo come spazio per rilassarvi. Mi piace l'abbondante luce naturale che entra dalle finestre. La stai conquistando? Bene. Le donne ci mettono un po' più degli uomini, ma alla fine mi apprezzano. Sei salito di un livello, bravo. Forse stanze da letto e bagni mi faranno passare al secondo livello. Forse. Ci sono cinque stanze da letto. Una è usata come ufficio. Voi potrete fare lo stesso. Oppure ricavarci una stanza per gli ospiti. Qui c'è la lavanderia. I bambini hanno il loro bagno. Ok, livello due. Attenzione. Questa è la stanza padronale. Wow. Vediamo com'è. Posso? Che meraviglia. È grandissima. Io adoro i soffitti alti. Danno personalità alla stanza. È una stanza da letto degna di un sovrano. Davvero, mi piace. Qui qualche anno fa hanno messo lo stesso parchè che c'è giù. Mi ero dimenticato di dirvi che è anche stato rifatto il tetto. Ha due anni e una garanzia di 25. Ok, livello tre. Sì. Vediamo il bagno padronale. Sono curiosa. Ehi, guarda che vasca! È grande! Guarda! Sì. È stupendo. Avete due lavandini, la vasca per l'idromassaggio e la doccia separata. L'ottorne è facile da lucidare. Stiamo facendo la stessa operazione anche a casa vostra. Qui c'è tanto spazio. Il WC è lì dietro. È isolato. In un bagno padronale ha una bella caratteristica. Sì. Sulla sinistra c'è un capiente guardaroba. Davvero? Oh! Wow! Mi piace! Bene! Vuoi salire di un altro livello? Sì! A che livello sono? Quattro. Solo? Quando avrai visto la cucina mi promuoverai al livello otto. Sono curioso. Ah, vediamo! Volevate un locale in più per farci uno studio o una stanza dei giochi? No! Stai scherzando! Cosa? È incredibile! Non so che cosa dire! Davvero! È fantastica! Non so a che livello collocarla! Siamo quassù! Ci sono sia la cucina che il salotto. Questa casa offre tante possibilità. La superficie è di 280 metri quadri, più questa cantina. Bravo, Drew! Ti sei superato! Andiamo a vedere il giardino, poi parleremo di soldi. Sì! Ecco! Ah, è un po' piccolo! Però non confina con boschi pieni di animali pericolosi. Va benissimo! Qui la manutenzione del verde viene svolta da professionisti. È un altro vantaggio. Davvero? Ce l'hai quasi fatta, Drew. Manca solo un'ultima cosa per farti raggiungere il sospirato decimo livello. Da 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 da! Il prezzo? Il prezzo, certo. Già. Entriamo a parlare di soldi. Ok? Non volete spendere più di 2,75? Esatto. Il prezzo di questa casa è di 285 mila. Ne costa 10 mila in più. Io non sono ancora convinto. Stai scherzando? Ci siamo messi alla scrivania e abbiamo fatto i calcoli insieme. Sì, lo so, ma rispetto alle altre case che abbiamo visto, questa è praticamente già abitabile. Qui non ci sono grossi lavori da fare. Possiamo continuare a parlare, ma alla fine il tetto di spesa è sempre quello. Secondo me possiamo ottenere uno sconto. Non so se scenderanno a 2,75, ma anche 5 mila dollari in meno da pagare possono farvi comodo. Si può fare un tentativo. Proveremo a fare un'offerta di 2,75. Buona idea. Al massimo la rifiuteranno. So che sei preoccupata perché la casa è stata costruita nel 2000, quindi non è coperta da garanzia originale. Alcune parti però sono assicurate. I lavori di restauro che sono stati fatti e il parquet hanno una garanzia di 10 anni, così come la nuova suite in cantina. Il tetto è stato rifatto due anni fa e ha 25 anni di garanzia. Dobbiamo fare i complimenti a Drew. Sei arrivato al decimo livello. 10 mila dollari non sono tanti. La casa mi piace. Vediamo se riusciamo a ottenere uno sconto. D'accordo. Va bene se faccio un'offerta di 2,75? Sì. D'accordo. Con ispezione per sicurezza. Sì. Grazie. Mentre io preparo l'offerta, voi dovete aiutarmi. Voglio mettere in vendita la vostra casa subito. Sì. Andate a casa ad aiutare Jonathan a finire. Mi raccomando. Farò il possibile per avere uno sconto. Ok. Mi sono guadagnato la fiducia di Yvonne che mi ha promosso al decimo livello. Se non riesco a ottenere il prezzo giusto, però, la mia reputazione crollerà. Prima questa cucina non aveva nemmeno un paraschizzi. La nuova sarà moderna ed elegante e le tinte che ho scelto la valorizzeranno. Gli armadi della cucina sono stati riverniciati. Stanno benissimo. Rimonto le porte e finisco di montare gli accessori. Poi avrò finito. Ciao! Come va? Abbiamo fatto un'offerta per la casa di oggi. È già abitabile o va restaurata? È perfetta. È già restaurata e coperta da varie garanzie assicurative. Sarebbe una soluzione perfetta. Bene. Ci resta solo una cosa da fare. Vendere questa. Sì. Sì. Voi però dovete finire di verniciare la sala da pranzo e i mobili. Domattina verrò qui per dare gli ultimi ritocchi. Ok? Va bene? D'accordo. Ok. Andiamo. Buona serata. Sta meglio di come pensavo. Starà bene. Stamattina Lazarus e Yvonne sono usciti presto. Noi ne approfittiamo per dare gli ultimi ritocchi. Ok. Abbiamo finito. La mamma di Yvonne si è arrabbiata per il tavolo. Per niente. Il colore le è piaciuto molto e io le sono simpatico. Siamo amici. Anche i muri sono venuti bene. Per fortuna li ha verniciati Lazarus. Mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo. Eccoli. Chissà se c'è anche la mamma di Yvonne. Ok. Abbiamo finito. Sì. La casa è pronta. Sì. Volete vederla? Certo. Certo. Entriamo. Mamma mia! Che ne dite? È luminosissima. Non ci credo. È così bella che non voglio andarmene. Le tinte che hai scelto stanno benissimo. Non sarei mai riuscita a trasformare la casa così. Abbiamo aggiunto un tocco di colore dietro la libreria e verniciato di nero l'ottone del caminetto. Piccole modifiche che hanno trasformato il locale. Sì, davvero. Dov'è la mia scrivania? Non è qui perché non bisogna intasare gli spazi. Se la gente vede la tua scrivania qui, pensa che la casa non abbia uno spazio per un ufficio. Togliendola, i potenziali acquirenti non avranno questa impressione. Voi bambini potete andare in camera vostra mentre noi proseguiamo il giro della casa. Va con loro, tesoro. Sono molto soddisfatto. Mi piace. Questo è un angolino tranquillo dove si può venire a leggere o rilassarsi ogni tanto. C'è anche un'altra novità. Voltatevi e guardate. Wow! È incredibile. Dov'è finita la mia lampada? Questa è più adatta. Mi piace. Il tavolo sta benissimo. E guardate la cucina. Non è la stessa. È diversa. Wow! Prima i ripiani erano più alti. Adesso sono tutti allo stesso livello. Laggiù si può fare colazione. Quanto spazio! Sì, abbiamo solo verniciato i vostri vecchi armadi. Erano bellissimi. Abbiamo fatto la parte superiore bianca per rendere l'ambiente più luminoso. Abbiamo ottenuto i vostri mobili verniciandoli di grigio per creare un piacevole contrasto col nero e il bianco. Ma il tocco più indovinato è il paraschizzi. È bellissimo. Sì. Davvero. Qui c'è una piccola postazione di lavoro. La scrivania è perfetta per quell'angolino. Sì, davvero. È bellissima. Bravo. Voglio farvi vedere com'è venuto il tavolo da pranzo che Jonathan ti ha fatto riverniciare insieme alla tua aiutante, cioè tua madre. Oh, guarda! Questa stanza è diventata una vera sala da pranzo. Ehi! È stupendo! Che meraviglia! Un capolavoro. Grazie. Le fodere sono state fatte dalla signora più gentile che abbia mai conosciuto. Tua mamma ha fatto un lavoro eccezionale. Sì, davvero. Anche l'imbianchino che ha fatto i muri è stato bravo. È ciò che stavo per dire. Le pareti mi piacciono. La tinta è molto elegante. Abbiamo eliminato l'orribile moquette che c'era prima. Bene. E l'abbiamo sostituita con questo parquet che rende lo spazio molto più elegante. È perfetto. La stanza padronale è stata completamente trasformata. Venite a vederla. Sì. Wow! È incredibile. Davvero? Guarda la tappezzeria. Sì, è il lampadario. È elegantissima. Sembra di essere in un albergo a 5 stelle. Quando si entra in questa stanza ci si rilassa. Lo stress accumulato durante la giornata scompare. Sì, è vero. Secondo voi, quale potrebbe essere la stanza che piacerà meno ai potenziali acquirenti? Il bagno padronale. Esatto. Vediamo com'è adesso. Oh! Non posso crederci! Non è possibile! La vasca! Oh, wow! Guarda la vasca! La vasca è stupenda! La vasca! Lì ci sta tutta la famiglia. Questo bagno sembra una spa. La doccia è stata completamente rifatta. Intorno abbiamo messo una soletta di cemento. Adesso è impermeabile. Posso assicurarvi che i proprietari di questa casa non avranno più problemi di muffa. Bene. Scendiamo a parlare di soldi. Bisogna vendere questa casa in fretta così potrete comprare quella nuova. Sì. La casa ha cambiato aspetto. Sono sicuro che i potenziali acquirenti la apprezzeranno molto. Sì. Sì. Certo. Abbiamo finito in due settimane senza sforare il preventivo. 13.000 dollari. Ora il valore è aumentato notevolmente. Che bello! Vi avevo detto che la vostra casa non valeva più di 210.000 dollari. Purtroppo. Sono lieto di annunciarvi che dopo il restauro potremo metterla in vendita al prezzo che volete voi, cioè 2,40. Sì, fantastico! Dobbiamo parlare anche del problema dell'acquisto della casa nuova. Voi volete spendere 275.000 dollari al massimo. La casa era in vendita a 2,85. Sì. Abbiamo chiesto uno sconto di 10.000 dollari, ma la nostra offerta è stata rifiutata. Oh, cosa si può fare? Sono disposti a scendere di 5.000 dollari, quindi la casa ne costerebbe 2,80, cioè 5.000 dollari oltre il vostro limite. 5.000 dollari non sono tanti. Quanto inciderebbero sull'entità delle rate del mutuo che dovremmo pagare? Se li ammortizzate in un mutuo, si tratta di meno di 20 dollari al mese. Già. Vale la pena continuare la ricerca per mesi. Oppure, visto che questa casa vi piace, è meglio accettare l'offerta e comprarla subito. Giusto. Ha capito. D'accordo. Dovete dirmelo ufficialmente. Accettate l'offerta? Sì. Accettiamo? Sì. Complimenti ora. La casa è vostra. Evviva! Boom! Bene. La metterò in vendita stasera e domani inizierò a mostrarla ai clienti. Tenetela pulita. Sì, certo. Tranquillo. Grazie. Ti sei conquistato la fiducia di Yvonne, ma Lazarus è indeciso. Quando avrò trovato chi comprerà questa casa, saranno contenti entrambi. Vedremo. Forza, bambini. Andiamo? Ok. Brava, su. Presto. Wow. Che bella. Stupenda. È enorme. Che bei paraschizzi. Guarda qui. È bellissimo. Molto raffinato. Wow. Wow. Che bello. Mi piace molto. Guarda la vasca. È enorme. Oh, che bella doccia. Mi piace il vetro. Stupenda. Ciao. Buongiorno. La casa è piaciuta. Ha suscitato molto interesse. È venuta a vederla tanta gente. La cucina e il passaggio diretto in soggiorno hanno avuto grande successo. Così come il bagno. Bene. Nei prossimi giorni la farò vedere ad altri clienti. Tenete pulita la casa. Ok, devi procurarci un'offerta. Ci fidiamo di te. Certo, sto facendo il possibile. A più tardi. Ok, ciao. Quattro giorni dopo, io e Jonathan siamo tornati a visitare la famiglia. Un po' di succo. Sì. E mela. Come va? Bene. Abbiamo delle novità. Davvero? Quali? Metti giù il coltello. Brutte notizie? No, c'è una proposta. L'abbiamo messa in vendita a 2,40 e ce ne hanno offerti 238.500. La differenza è poca. 1.500 dollari in meno si può fare. È un'offerta molto interessante. Secondo il mio parere, possiamo accettarla. Davvero? Sì. Accettate? Sì. Certo. Ok, venduta. Sì. Sì. La vendita non sarà ufficiale finché non avremo messo la scritta venduta sul cartello che c'è fuori. Andiamo ad attaccarla, su. Andiamo. È il grande momento. Siete pronti? Sì. Ecco fatto. Adesso è ufficiale. Sì. Sì. Congratulazioni. Sì. Nella nuova casa avrete a disposizione così tanto spazio che non saprete cosa farne. Che bello. Drew ha raggiunto il decimo livello. All'inizio ero dubbiosa delle sue capacità, ma poi mi ha convinto. Complimenti. Godetevi la casa. Io e Jonathan vi lasciamo a festeggiare. Prima di andarvene, però... Fammi indovinare. Se vuoi la rivincita. Certo. Giochiamo subito. Ho l'occorrente in macchina. Vado a cambiarmi. Ci vediamo al campo. Ok. Siamo pronti. Chi arriva a tre vince. Ok. Due contro uno. Va bene. Pronti? Sì. C'è. Bel tiro. Ok. Ahah. 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 Bello. Ecco. Ci siamo. Attenzione. Un disastro. Perfetto. Ok. Il tiro decisivo. Oh. Ah. Complimenti per il tiro. Noi ce ne andiamo. Avrete voglia di festeggiare. Avete una casa nuova e vi siete riscattati a pallacanestro. Bravi. Grazie. Noi ce ne andiamo. 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 Grazie a tutti.